Buongiorno. Sembra che tu abbia visto un fantasma. Becky... Becky! Io conoscevo Chloe. Ma non parlavamo da anni. Forse si era cacciata nei guai. Quello sguardo non promette nulla di buono. Nessuno sapeva cosa stesse passando. Farsi domande e non avere risposte non è gradevole. Il suo numero di abbonamento... Ho fretta, le dispiace se entro subito? Sì, certo. Sono Sasha Miles, Livia Fulton. Questa è Sasha, comunque. La conosco, Sasha. Che cosa succede? Mi piace decidere come mostrarmi agli altri. Allora, come hai conosciuto, Lib? Ci siamo incontrate a yoga. È tutto così fa. Perché ci andiamo con due sconosciute? Sua moglie è morta. Noi stiamo qui come se nulla fosse accaduto. Com'è successo? Si è suicidata. Becky, mi serve il tuo aiuto. Pensavo di sapere come fosse la sua vita. Ma mi sbagliavo completamente. Tu hai parlato con lei quella notte? Tu fai molte domande su Chloe. A te piace il brivido, non è così? Tu non mi conosci veramente. Ora stammi lontano. Mi ero chiusa a me stessa. So che lei non c'è più. Mi sembra di tradirla. Cosa pensi che abbia fatto? Mi hai mentito. O chi sei? Mi dispiace. È successo questo a Chloe?